Buonasera da Cucina Bievolutiva, oggi prepareremo l'insalata vergine, un'insalata crudista igienista, a base di finocchio, ragione per cui l'abbiamo chiamata vergine in omaggio alla purezza e alla delicatezza del finocchio, che dedichiamo alla nostra amica Francesca Bruschini, golosa di avocado, un altro ingrediente di questa semplice e facile insalata. Vediamo subito gli ingredienti. Ci occorrono due bei finocchi, due avocado della qualità ass, due cucchiai abbondanti di origano calabrese essiccato ed infine il succo spremuto di un limone. L'avocado è un grasso che si lega bene con il limone, questa è l'eccezione che conferma la regola, quindi è un'insalata igienista, assolutamente digeribile. Attenzione però, se questa è un'insalata che consumate come monopasto, va benissimo condirla con il limone, ma se avete intenzione di mangiare anche altro, state attenti ai connubi che fate, perché il limone come frutta acida non si lega con amidi e proteine. Come prima cosa tagliuzziamo la barbetta dei finocchi che sfrutteremo per creare l'emulsione di limone, origano e barbetta di finocchio. Tagliuzziamo la barbetta del finocchio, uniamo al finocchio tagliuzzato l'origano essiccato. All'ultimo momento spremeremo il limone per trarne il succo e quindi fare l'emulsione di condimento. Ora ci dedichiamo al taglio dei finocchi e dell'avocado, li sminuzzeremo e li metteremo nel contenitore dove poi andremo ad amalgamare il tutto con l'emulsione. Spermiamo il succo del limone, aggiungiamo il succo di limone nella coppetta con la barbetta di finocchio e l'origano essiccato. Amalgamiamo, giriamo, versiamo l'emulsione di condimento sui finocchi che abbiamo appena tagliuzzato, in questo modo eviteremo che si ossidino. Mescoliamo per bene. tagliamo a dadini l'avocado, amalgamiamo e siamo pronti per la presentazione. L'insalata vergine è pronta, buona cucina bioevolutiva a tutti e alla prossima videoricetta!